ciao a tutti e bentornati in un nuovo video con vimi continuiamo le avventure in apple knight vediamo di completare qualche altro livello andiamo a completare tutti i livelli ovviamente se il video diventa lungo lo divido ovviamente come al solito ormai ho imparato due ok così non è morto ma comunque l'ho ucciso questo e morì e morì qua cosa c'è parte il ventilatore ventilatore volante ok non può beccarselo in testa no aspetta so che è morto male oh è qui abbiamo un salto coso per con la pubblicità ok non posso rispettare c'è poi Batman sempre un piacere no non posso ok morto prendi i rubini prendi le mie linee uccidi il Batman e muori oh oh no non quello non era mio amico no cadito 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 muori allora brutto cattivo non si tradisce così pensavo che fosse mio amico vabbè non è mai stato mio amico no mi serve un cuore come al solito c'è un cuore da qualche parte ma rischio di morirci quello lì quello lì c'è un cuore mi serve quel cuoricino ok così ho preso anche una manetta aspetta così 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 dobbiamo uccidere quel mago là guardate questo è bruttissimo questa cosa uccidiamo questo il soldato blu sono un altro mago aspetta smetto qua guardi prima che mi attacca fai tutte le mie mele in faccia questi maghi questo albero è morto ah siamo in autunno cosa è successo l'ha polverizzato quel tizio ok vuotati sono già sono già a fine manca solo un sarà sicuramente solo un vasetto strimentito e i due nascosti non sopra mai dove sono non sempre è intuitivo dove sono e siamo a livello 3 di questo mondo autunnale uccidiamo batman prendi le monettine ah no ho detto prendi le monettine no fai l'ago puntura e muori i maghi i maghi e i lanciatori di piedi sono tra le cose più antipatiche signore vorrebbe un po' di pedicure e taglio volente guarda come le affetto per bene i piedi con miracle blade uccidi batman uccidi batman ancora adesso con i maghi non capisco perché è cattivo con noi cosa c'è ma eccolo qua non sai che c'è un tuo givello là che mi uccide eh perché non fai qualcosa invece di star qua a cercare un nero per cosa poi un po' nero d'oro quasi qua io me lo otterrei e me lo vado a vendere a al signor degli anelli ecco lo vado a buttare in un vulcano una volta che lo trovo guardalo lì tanto il posto segreto e non dico tanto per dirlo è proprio a caso ok ok uccidi batman e qua cosa dovevi fare scusa no scusa ah ok non ciotto di pietre non ciotto di pietre non ciotto di pietre non ciotto di pietre no 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 ok ok in quanto parlo ok ce l'ho fatta qua non può essere segreto no nessun segreto qui no manco uno eh e muori e muori muori si oh ah non ci provare voleva farmi l'agguato eccolo qua il suo stupido anello vado a gettarlo subito in un vulcano fatemi un vulcano no 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 non morimi in modo stupido no però se poi col boss mi serve il suo aiuto mmm va bene facciamo le persone gettili che stanno per morire qualcuno mi dice che sto per morire sono tra un cuore uccidio il suo dato no un guard e e muori niente fuori niente solo del cuore amore andiamoci dai Batman e poi bruciamo le birch vicino e l'ho già perso l'ho preso l'ho preso e l'ho perso sono un po' più intelligente ascensore grazie devo andare a terzo piano uff e muori muori poi cosa c'è Milina maule ah mi sa che è la fine yeah yeah